E' stata presentata a lei un'istanza da parte di due avvocati terramani circa la messa in sicurezza di via Muzzi, una zona molto a rischio che richiede o la completa messa in sicurezza o addirittura la demolizione di una palazzina fatiscente che da anni ormai crea problemi. Ne è venuto a conoscenza? Crede di poter fare qualcosa? Sì, ne sono venuto a conoscenza, infatti ho interessato già il settore tecnico e il dirigente per esaminare le iniziative che possono essere assunte. Sembra che però ci sia, come sanno anche gli esponenti, un problema di intervento dei proprietari assolutamente assente sinora e quindi occorre trovare le giuste misure per poter venire incontro a questa esigenza di sicurezza. Adesso valuteremo e vediamo quali provvedimenti adottare. Quindi da quanto si può comprendere non potrà portare avanti l'idea di una demolizione ma tutt'al più una messa in sicurezza fatta bene per quella zona? Probabilmente sì, adesso non mi voglio sbilanciare, mi riprometto di esaminare meglio la questione, però sicuramente sì, anche perché se si deve realizzare un'esecuzione in danno deve essere un'esecuzione la meno onerosa possibile per il comune che poi dovrà eventualmente rivalersi sui proprietari. Siamo sempre nel contenimento della spesa.